Conforto all'anima di Don Giuseppe Tomaselli, quinta parte. In casa di Zaccheo. Gesù era entrato in Gerico e percorreva la città. Gli abitanti si accalcavano attorno a lui per vederlo e ascoltarlo. Un certo Zaccheo, capo dei pubblicani, esattore esoso dei tributi, quindi, considerato dal popolo come un gran ladro, bramava poter vedere il Nazareno. Ne aveva sentito parlare tanto e mai gli era stato possibile posare il suo sguardo su di lui. Questa volta era risoluto di vederlo. Essendo però piccolino di statura ed impedito dalla folla, pensò di montare sopra un albero. Corse davanti al popolo lungo la via che Gesù doveva percorrere. Salì sopra un sicomoro e lì attese il sospirato passaggio. Quando Zaccheo scorse Gesù, puntò gli occhi sulla sua persona e non sapeva staccarsene. Era felice. Finalmente la sua brama era stata appagata. Ma quale non fu la sua meraviglia, allorché Gesù passò presso l'albero e sentì dirsi Zaccheo, di scendi giù presto perché oggi voglio fermarmi a casa tua. Fuori di sé per la gioia si affrettò a scendere e prese posto a fianco di Gesù. I cittadini, che ben conoscevano Zaccheo, cominciarono a mormorare. Ma perché andare in casa ad un ladro? Non sarebbe meglio andare in una buona famiglia? Gesù lasciava dire La casa di Zaccheo fu piena di gioia. Il Signore fu accolto bene e trattato cordialmente. Tutti in famiglia rimasero soddisfatti, ma specialmente il capo. Zaccheo, il pubblico peccatore, preso dalla bontà di Gesù, illuminato dalla Divina Grazia, volle fare un atto di protesta e di riparazione. Signore, disse, ho rubato, ma da oggi in poi non farò male ad alcuno. Ecco, darò ai poveri metà nei miei beni, e se a qualcuno ho tolto qualche cosa, gli renderò il quadruplo. Il grande peccatore di Gerico si era convertito. Gesù, provando in cuore la gioia che ebbe il padre nel riabbracciare il figlio prodigo, disse ai presenti Oggi è entrata la salvezza in questa casa, perché anche lui, Zaccheo, è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e salvare quello che era perduto. Ecco il compito di Gesù. Cercare e salvare i peccatori. Presso il pozzo In compagnia degli apostoli Gesù si dirigeva in Galilea ed era necessario attraversare la Samaria. Era quasi mezzogiorno. Gesù era stanco del viaggio e si fermò presso la città di Sichem, in un prato ovvero l'antico pozzo di Giacobbe. Mandò gli apostoli in città per provvedere un po' di cibo ed egli, rimasto solo, si sedette così alla buona presso il pozzo. Era pensieroso e il suo sguardo era fisso lontano, quasi sospirasse qualche cosa. Un lampo di gioia illuminò il suo volto, poiché vide apparire una donna. Chi era Costei? Una pubblica peccatrice, seminatrice di scandali in città. Era tenuta lontana dai buoni. Però Gesù non solo non la voleva sfuggire, ma la tendeva con ansia per convertirla. Quando la Samaritana giunse al pozzo, il Redentore non le mosse parola di rimprovero, ma la guardò con amore compassionevole. Essa non parlava e mostrava di non far caso di Gesù. Il primo a parlare fu il Divin Maestro. Donna, dammi da bere. Forse egli aveva sete di acqua? No, aveva sete di animi ed usava il linguaggio metaforico. La donna si sentì offesa, poiché tra Samaritani e Giudei c'era un odio secolare. Subito rispose, Come mai tu, Giudeo qual sei, domandi da bere a me che sono Samaritana? Sai che i Giudei non vanno d'accordo con i Samaritani. Gesù non si offese a tale risposta, anzi, le soggiunse, Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice, dammi da bere, forse tu stessa ne avresti chiesta a lui, ed egli ti avrebbe dato un'acqua viva. Gesù, conservando il linguaggio simbolico, intendeva parlare della grazia divina, dell'amicizia del creatore con la creatura della vera acqua che di sete in eterno ed apporta la felicità. La Samaritana credeva che Gesù parlasse in senso materiale, quindi gli rispose, Tu non hai con che attingere acqua ed il pozzo è profondo. Dove dunque tu trai quest'acqua viva? Se forse è più del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne bevette egli, i suoi figli e i suoi gregi? E Gesù a lei, Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, chi invece berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua zampillante sino alla vita eterna. Gesù, con queste parole, paragonava i piaceri terreni all'acqua materiale la quale disseta soltanto momentaneamente. Chi cerca i piaceri dei sensi non potrà giammai essere sazio. La grazia di Dio, l'acqua di vita eterna, porta la vera sazietà del cuore. Gesù voleva quindi dire alla Samaritana Tu hai cercato la felicità nei sensi e non l'hai trovata. Sei arsa sempre di nuova sete. Cerca la felicità nella grazia di Dio. La peccatrice era troppo ingolfata nella disonestà per comprendere il linguaggio divino e, pensando all'acqua materiale, riprese a dire Dammi allora un po' di quest'acqua affinché non abbia più sete e non abbia più a venire qui ad attingere. Ricevere l'acqua di vita eterna, l'amicizia di Dio, non è possibile se non si lascia il peccato ed allora Gesù mise il dito sulla piaga delicatamente per far comprendere alla donna la gravità dei suoi scandali e farle mutare vita. Donna, va a chiamare tuo marito e torna qui. Di certo la Samaritana non aspettava tale proposta e rispose Non ho marito. Hai detto bene Non ho marito perché tu hai avuto cinque mariti e quello che ora hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero. La povera donna, vedendosi svelati i peccati, non avendo ragioni per giustificarsi, esclamò Signore, vedo che tu sei profeta e forse tanto per diviare il discorso portò avanti la questione sul luogo più conveniente dove adorare Dio. Se a Gerusalemme, in Giudea, ovvero sul monte Corazim, in Samaria, Gesù rispose Credi a me, o donna, è venuto il tempo in cui non adorerete il Padre Celeste né su questo monte né a Gerusalemme, ma si avvicina l'ora, anzi, è già scoccata in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché tali il Padre vuole i suoi adoratori. Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. La Samaritana non comprese la sublimità della risposta di Gesù e concluse Io so che deve venire il Messia quando sarà venuto egli ci annunzierà ogni cosa. La peccatrice era davanti alla luce e non la vedeva. Parlava al Messia senza riconoscerlo. Gesù Cristo allora si manifestò Il Messia che si aspetta è colui che ti parla Sono io. La donna fuori di sé per la meraviglia e colma di gioia al pensiero di aver parlato al Messia lasciò il recipiente dell'acqua presso il pozzo e ritornò frettolosamente in città per dire alla gente Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto Gesù la seguì con lo sguardo lieto di averla convertita frattanto gli apostoli ritornarono e gli dissero Maestro mangia Non ho bisogno rispose di questo cibo io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete Gli apostoli credevano che il maestro parlasse di un cibo materiale difatti si dissero l'un l'altro forse qualcuno gli avrà portato da mangiare Gesù invece era sazio perché aveva tirato a sé un'anima peccatrice La sua ardente brama era stata pagata rispose quindi agli apostoli Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua cioè portare a lovire le pecorelle smarrite convertire i peccatori I due debitori Simone il lebroso e guarito ricco fariseo voleva avere l'onore di ricevere Gesù in casa sua e di offrirgli un pranzo andò a pregarlo e fu accontentato Gesù era già a tavola in compagnia di altri invitati e più che al pranzo pensava a quanto stava per accadere all'improvviso entrò nella sala una donna chi mai avrebbe potuta essere era Maria la peccatrice male aveva usato dalla sua bellezza aveva rovinata l'anima propria e quella di tanti altri ma ormai era pentita aveva presa la risoluzione di presentarsi a Gesù e presentargli si pubblicamente quasi in espia azione dei cattivi esempi dati al pubblico avendo saputo Costei che il Signore era in casa di Simone senza rispetto umano mi andò portando seco un vaso di alabastro pieno di unguento appena lo scorse si gettò ai suoi piedi cominciò a piangere dirottamente le sue lacrime bagnavano i piedi di Gesù con i capelli gliele asciugava e poi li baciava ripetutamente ruppe il vaso di alabastro e versò il prezioso unguento sui piedi del divino maestro la sala si riempì di profumo tutti gli occhi dei commensali erano sulla donna e sopra Gesù il quale lasciava fare nessuno parlava ma ognuno nell'interno faceva il commento Simone che aveva invitato Gesù osservando la scena disse fra sé se costui fosse profeta saprebbe certamente che specie di donna sia colei che lo tocca e come sia una grande peccatrice povero uomo si meravigliava che Gesù potesse sopportare la presenza di una donna disonesta e che conoscitore dei cuori permettesse di essere toccato da una donna perduta secondo lui la donna avrebbe dovuto essere rimproverata e subito allontanata Gesù estremamente tenero verso i traviati e prese le difese della donna ma in modo delicato ed efficace sino a far rinsavire il fariseo Simone non aveva parlato ma Gesù vide il suo pensiero e subito prese la parola Simone ho da dirti una cosa di pure maestro un creditore aveva due debitori l'uno gli doveva 50 denari l'altro 500 ma non avendo essi da pagare condonò il debito ad entrambi chi dunque dei due lo amerà di più rispose Simone quello suppongo a cui hai condonato di più hai giudicato bene replicò Gesù con queste parole il signore fece condannare da se stesso il fariseo chi era il creditore Dio chi i due debitori la donna e il fariseo stesso la prima aveva peccato di più ed era più debitrice verso Dio il secondo di meno ma era anche debitore Gesù perdonava tutti e due ma era più contento della condotta della donna in quanto la vedeva più pentita più umile più amante ed affinché Simone comprendesse meglio Gesù volgendosi la donna esclamò vedi Simone questa donna sono entrato in casa tua e non mi hai dato acqua per lavarmi i piedi Costè invece ha bagnato i miei piedi con le sue lacrime e le ha asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato il bacio dell'amicizia e lei da che è entrata non ha cessato di baciare i miei piedi tu non hai unto d'olio il mio capo ella invece ha unto i miei piedi di profumo perciò ti dico che le sono rimessi molti peccati perché molto ha amato ma colui al quale meno è rimesso meno ama poi disse alla donna ti sono perdonati i tuoi peccati la tua fede ti ha salvata va in pace come sia rimasto il fariseo è più facile immaginarlo che esprimerlo